Moviment Ma che cosa è questo Moviment? Ebbene, ciao a tutti! Finalmente possiamo presentarci! Siamo Alessandro e Margherita Forse ci conosci, forse no, ma siamo cittadini di Veneteglio, proprio come te! Abbiamo 21 e 22 anni e siamo entrambi studenti di scienze motorie alla Statale di Milano Sì, sì, ok, ma quindi... Che cos'è questo Moviment? Moviment è un'iniziativa che abbiamo voluto creare in accordo con il Comune e l'assessorato allo sport e nasce dall'idea di creare un movimento per la promozione dello sport nel nostro paese Esattamente, perché Moviment è un vero e proprio movimento che come tutti i movimenti è fatto di persone Lo scopo della nostra iniziativa è quello di aiutarvi e anche un po' di motivarvi a fare un po' di esercizio fisico insieme a noi Abbiamo infatti messo nel calderone tutte le nostre conoscenze assieme a tanta passione e tanta voglia di divertirci per tirare fuori un video settimana nel quale vi illustreremo tre semplicissimi esercizi veramente alla portata di tutti così non ci saranno scuse Allo stesso tempo, gli stessi tre esercizi, con un po' di accorgimenti potranno diventare sfidanti per chiunque di voi, anche per i più allenati Ma non ci fermiamo qui, infatti, non appena sarà possibile ci piacerebbe organizzare quante più possibile attività sportive assieme a voi Organizzeremo corse, biciclettate e allenamenti di gruppo adatti proprio a tutti, nessuno escluso Noi siamo prontissimi, da tantissimo tempo che stiamo progettando questa iniziativa e non vediamo l'ora di cominciare Domenica pubblicheremo il nostro primo video proprio qui su Facebook, sul gruppo Lo troverete inoltre sulla nostra pagina insieme a tantissimi altri contenuti extra Se sei entusiasta quanto noi faccialo sapere nei commenti oppure lasciando una semplice reaction In ogni caso, per qualsiasi domanda chiedi a noi, sulla nostra pagina Grazie dell'attenzione e... Buon moment a tutti! Grazie a tutti!